Aprite le porte che passano, che passano, aprite le porte che passano i vecchi alpini. Come la marcia bella, la banda, la banda, come la marcia bella, la banda. Cronache trevigiane in viaggio nella Dunata del Piave, a Dunata Nazionale degli Alpini a Treviso. Avete visto immagini davvero spettacolari che toccano il cuore e abbiamo incontrato, ad esempio, il presidente di Regione Veneto, Luca Zaia, ed un vino che non ti aspetti in servizio. Il vino che non ti aspetti alla Dunata del Piave è il prosecco analcolico. Si chiama Freedom Mind, è un mosto di uva glera non pastorizzato, con aggiunta di anidride carbonica e senza additivi chimici. A produrlo l'azienda Iris Vigneti di Mareno di Piave, della viticoltrice Isabella Spagnolo, che ha realizzato la prima vera alternativa alcol free al prosecco. E il successo è stato immediato, soprattutto nei mercati arabi. Le dirò, si parla molto di start-up, di app, di mondo digitale, di Silicon Valley, si parla molto di nostri ragazzi. Ecco qui un esempio, Isabella Spagnolo, che ha avuto la grande intuizione di togliere l'alcol allo spumante, al nostro prosecco, diciamolo, fino in fondo. E quindi c'è la possibilità di bere, di fare gli spritz e quant'altro, analcolici. E' una bella novità perché dà una risposta non solo a quel mondo che non beve vino, per ragioni religiose, ma dà una risposta di tantissimi ragazzi che vogliono divertirsi, bere un buon vino, ma senza alcol. Grazie Presidente, grazie a tutti voi. Sono convinta che abbiamo risposto delle esigenze e dei bisogni e soprattutto abbiamo portato il Made in Italy, Made in Veneto nel mondo. Dal colore giallo paglierino chiaro, profumo fresco e fruttato, con sapore dolce, delicato ed equilibrato, Freedom Mind è un Italian Fashion Drink, un esempio della peculiarità dell'agricoltura locale, di generare innovazione di prodotto e trascinare l'intera economia. Gli agricoltori, se non ci fossero, bisognerebbe inventarli. Il Veneto agricolo produce 350 prodotti tipici, il Veneto agricolo ha un fatturato di 6 miliardi di euro. Questo per dire che, oltre ai nostri grandissimi prodotti tipici, abbiamo poi una grande trasformazione, come dico io, non è un caso che siamo la prima regione turistica d'Italia, perché se si mangiasse e si bevesse male, qui non ci avrebbe nessuno.